Amici di Mondo Napoli, il giorno dopo è sempre più brutto e quindi per me è davvero difficile raccontarvi quali sono stati i top, qual è stato il top e qual è stato il flop della partita. Vi preannuncio che da parte della redazione di Mondo Napoli è stata sicuramente una decisione atipica, anzi penso che sia la prima volta che abbiamo deciso di intraprendere questa soluzione senza perdere tempo anche perché in questi momenti le parole sicuramente non colmano il dolore che abbiamo dentro. Di conseguenza andiamo subito a analizzare chi è stato il peggiore della partita, il peggiore è stato, sono stati tutti quanti, abbiamo deciso di decidere che una prestazione del genere dovesse essere punita con una bocciatura generale. E' chiaro che come ogni cosa c'è sempre chi ha fatto meglio e chi ha fatto peggio però non esistono note positive perché poi ovviamente pensando al risultato note positive non ce ne sono. Forse solo la prestazione di Rachmani che ha trovato proprio il suo primo gol, forse il più importante dalla sua carriera, un gol che purtroppo poi non è servito a regalarci la qualificazione in Champions League. Anche Meret se vogliamo comunque ha dato per quello che insomma abbiamo visto un minimo di sicurezza, cosa che fino adesso magari non aveva dimostrato tra i pali con le uscite. Purtroppo però è una prestazione davvero che non lascia spazio commenti positivi. Il capitano purtroppo è venuto a mancare, non è riuscito a trascinarsi la squadra sulle spalle come ha fatto nell'ultimo periodo. Osimene si è nascosto, Zielischi ancora una volta pecca di personalità e quindi rimane questo limbo tra il potenziale fuoriclasse che ha questo vuoto di personalità. Di conseguenza per il fatto che abbiamo deciso insomma di bocciare tutta la squadra non ci sono top. Abbiamo preso questa decisione, la redazione di Mondo Napoli ha deciso di evitare insomma di premiare qualcuno anche perché il risultato penalizza fortemente insomma quelle che poi saranno anche le strategie societarie del prossimo anno. Per quello che può contare noi di Mondo Napoli saremo sempre al vostro fianco quindi continuate a seguirci con le nostre dirette sui nostri canali social, su YouTube Mondo Napoli Channel, la nostra chat a Telegram è sempre attiva Mondo Napoli Chat e ovviamente i nostri canali YouTube, i nostri canali Facebook e Instagram. Che dire, ci rivediamo nei prossimi video e sempre Forza Napoli!